Il laboratorio per gli impianti termici a pompa di calore dell'Eurac è pensato per testare pompe di calore acqua acqua sia a compressione che ad assorbimento e determinarne le prestazioni in termini di coefficienti di performance. Le pompe di calore possono essere testate secondo la normativa quindi condizioni stazionarie ma possono essere anche testate in condizioni dinamiche pseudo reali che riproducono al meglio le condizioni di funzionamento durante tutte le stagioni dell'anno. I servizi di test che offriamo si rivolgono sia a piccoli produttori che non dispongono di un laboratorio sperimentale sia ad aziende più grandi che hanno già testato le loro macchine secondo la normativa ma che vogliono testare ancora secondo condizioni dinamiche prima di immettere il prodotto sul mercato. In entrambi i casi se richiesto dal committente possiamo utilizzare i test a supporto della fase di sviluppo prodotto. Una caratteristica particolare del nostro laboratorio è la possibilità di caratterizzare il funzionamento non solo dei singoli componenti ma di un intero impianto complesso composto ad esempio da una pompa di calore, accumuli termici, collettori solari e il tutto connesso ad un sistema di distribuzione dell'edificio. Nel caso di sistemi di questo tipo le prestazioni dipendono in parte dalle caratteristiche dei singoli componenti ma anche da come questi vengono collegati tra loro e dalle strategie di controllo dell'intero sistema. Da qui il valore dei test in condizioni dinamiche pseudo reali. A livello di impianti possiamo testare sia sistemi prefabbricati sia una singola pompa di calore inserita in un impianto definito dal costruttore. Si tratta in questo caso di test che non hanno la finalità di produrre una certificazione ma che contribuiscono alla fase di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di un prodotto innovativo. Grazie a tutti.